Buon mattino, ma che te pia l'infarto alla fatica! Non potevano mancare anche gli amici del Guitto che quest'anno ci propongono lo spettacolo? Arginia passa l'acqua, che sarebbe come dire andiamo alle terme. La comedia infatti è ambientata alle terme di Caregnano che nella nostra immaginazione abbiamo voluto riaprire. Sono delle terme ultramoderne con soluzioni tecnologiche molto avanzate e oltre alle cure termali offrono anche trattamenti di centro benessere. Sarà proprio un trattamento speciale anche per il pubblico perché sarà benefico all'insegna della risata? Esatto, è uno spettacolo molto divertente che al debutto a Fano questo inverno ha avuto molto successo e speriamo che ne abbia anche qui a Tre Punti. Grazie. Grazie. Grazie.